salve a tutti ma ne ho messeri benvenuti a una nuova puntata qui sul canale spero state bene tutto a posto ci rubiamo il nuovo video una nuova rubrica che spero possa piacervi chiamata appunto come uno dei video anzi penso il video più visto nel mio canale ovvero i profumi della mia vita il mondo delle fragranze mondo in cui sono entrata qui in inghilterra tre anni fa in modo del tutto inaspettato perché io sono appassionata di makeup però mi sono sempre piaciute le fragranze non sono un appassionata tale di fragranze così come lo sono nel makeup però in questi anni ho ho ampliato la mia conoscenza e vorrei condividere con voi alcune dei profumi che preferisco e farvi capire la differenza di nuance di appunto resa della fragranza per chi di voi fosse un esperto per chi a voi piace le fragranze perché negli anni ho sviluppato soprattutto in questi ultimi tre anni un gusto molto eclettico quindi riesco ad apprezzare fragranze di differenti famiglie olfattive nello specifico in car in cada puntata esamineremo una fragranza vorrei iniziare con una delle mie preferite le prime due che vedete di queste serie sono fra i grandi che ho anche finito e per purtroppo non posso ricomprare anche perché io non sono una persona che ti compra sempre la stessa fragranza con determinata eccezione nello specifico il profumo con cui iniziamo la serie è questo qui che è le le parfum di elisab però questo nella limited edition versione oro avvalendomi sempre in uno con uno avvalendomi sempre di uno degli attori principali di questo canale ovvero il mio gobo alias è il quaderno di sant'antonio che alcuni di voi apprezzano vi passo in rassegna la differenza tra la versione originale questa allora la versione originale del 2011 poi parleremo anche del naso della fragranza ovvero del creatore la fragranza del 2011 ha come note di testa e poi spiegherò brevemente che sono le note testa cuore e le note di coda però molti di voi lo sapranno ma faremo un recap molto breve nella versione del 2011 abbiamo fior d'arancio africano come nota di testa come nota di cuore un blend di differenti tipi di gelsomino e come note di coda paciuli cedro della virginia note di rosa e miele mentre in questa versione del 2014 abbiamo come nota di testa il fior d'arancio come note di cuore abbiamo il gelsomino assoluto quindi la parte più pregiata del fiore assieme al paciuli che in questo caso si trova nelle note di cuore e come note di coda abbiamo sempre il cedro e un della rosa qua e la mia fonte per le per i vari ingredienti e fragrantica che vi lascio qui nell'info box la definisce in inglese honey rose ovvero una rosa che ha delle note dolci ora più che ho honey rose penso che ci siano comunque presenti elementi di miele anche in questa versione originale e vi spiego le le fragranze sono per me come dei degli accessori invisibili quindi una volta passate a disamina le due interpretazioni vi dico che il il creatore di entrambe le fragranze come di molte fragranze per elisabro profumi è francisco di jean per alcuni di voi che sono abbastanza avvezze a bazzicare nel mondo della profumeria di nicchia kurdi jean sesso che un un profumiere profumiere si un creatore di profumi di origine armene ha una sua linea di fragranze maison francis kurdi jean mfk per se vedete la scritta mfk e lui sempre di cui forse conoscerete il suo best seller ovvero rouge baccarat che è molto opulento e orientale ora questa fragranza mi piace tantissimo perché è sensuale nonostante sia definita da fragrantica come una fragranza floreale legnosa perché abbiamo appunto anche delle note legnose rimane fresco ma sensuale al contempo sì io sento dei rumori sempre di queste di queste mosche ma ho provveduto alle zanzariere quant'altro c'è proprio uno degli ultimi spruzzi e parlavamo prima di note di testa note di cuore note di coda ovvero le note di testa sono quelle che vi danno la prima impressione della fragranza le note di cuore sono le più importanti per quel che concede il carattere e invece le note di di coda sono quelle che vi danno la persistenza della fragranza ha una buona durata e sensualissimo quindi all'inizio avete questa percezione di freschezza da appunto come vi dicevo dal fiore d'arancio mentre abbiamo una fragranza molto femminile la femminilità che si vince appunto con le note di gesso meno ma una volottuosità che data dal paciuli la purtroppo questa versione essendo una una limited edition e una interpretazione particolare non è più in commercio però qualora la abbiate nelle vostre nella vostra collezione fatemi sapere perché vi piace nel mio caso io parto la mia coperta di linus delle fragranze sono appunto le fragranze floreali molto femminile le vedrete nel corso del tempo questa mi piace perché nonostante abbini la freschezza abbiamo un grado di sensualità e come se lo dovessi paragonare a un vestito un bellissimo vestito di pizzo nero aderente e sensuale io penso che sia ecco qua ovviamente il telefono ha deciso anche di interrompersi ma non fa niente dicevo se dovessi paragonare appunto questo profumo a un vestito sarebbe un vestito appunto di elisab molto sensuale femminile quindi è ben tradotto in fragranza quello che il coturier ha sempre spesso nelle sue nella sua linea di moda c'è da dire che i vestiti di elisab sono principeschi e fantastici e questo è appunto l'accessorio invisibile che contorna meglio l'espressione propria artistica sia di elisab sia di curdijan come fragranza è abbastanza è abbastanza persistente come dicevo prima intensa ma non soffocante per alcuni di voi che sono relegate comunque ad avere profumazioni invernali estive io vado molto a non inquadro le fragranze in questo senso ovvero non c'è una certa stagionalità così come nel makeup se voglio mettere un makeup abbastanza fresco d'inverno o abbastanza pesante intenso d'estate lo faccio tranquillamente però perché qualora voi volesse un'indicazione dove si colloca questa fragranza una fragranza che la maggior parte di voi forse userebbe d'inverno io la utilizzo un po tutto l'anno la utilizzava un po tutto l'anno per sentirmi appunto sensuale ma appunto va da sé che nella stagione estiva l'ha utilizzato soprattutto durante la le serate le serate basta vi sentite molto sensuali se l'avete nella vostra collezione di profumi fatemelo sapere se l'avete utilizzato fatemelo sapere con la versione originale c'è appunto una differenza dove la presenza del paciuli nel cuore della fragranza fa sì che abbia un'anima più intensa e sensuale rispetto alla versione principale che è ancora disponibile ma che non ho intenzione di di acquistare perché appunto non mi dà la stessa sensazione non è esattamente la stessa cosa questo è quanto spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia interessato fatemi sapere qualora lo vogliate supportato il canale iscrivendovi condividendo e appunto diffondendo il verbo quello che il vostro cuore con la q desidera come sempre io vi saluto e vi lascio alla prossima al prossimo video un bacio forte alla prossima ciao ciao